Per una settimana in tutta la provincia di Bolzano, in diverse pensiline delle fermate dei bus, si potranno notare questi manifesti. Si tratta di una nuova azione promossa dalla Südtiroler Schützenbund riguardo alla toponomastica italiana in Alto Adige. Hanno scelto di far dialogare via WhatsApp il padre della lingua italiana Dante Alighieri e il poeta tedesco Walter von der Vogelweide. Arriva da una data storica che è il 29 di marzo 1923 dove è stato lasciato il decreto 800 che praticamente cancellava tutti i nomi tedeschi, ladini e li toglieva praticamente l'ufficialità e faceva ufficiale solamente i nomi italiani. Questo era un atto di assimilazione, praticamente l'intenzione dietro dei fascisti, di Tolomei e di Mussolini era di cancellare praticamente tutta l'identità del Sud Tirolo. Per gli esponenti del Corpo dei Cappelli Piumati, che conta 142 compagnie in tutto l'Alto Adige e un totale di 6.000 iscritti, a 100 anni dal decreto regio bisognerebbe guardare oltre. I nomi italiani in sé non sono il problema perché sono tanti nomi italiani che hanno una radice storica, vogliamo dirlo così, però di questi nomi italiani attualmente validi sono tanti nomi che sono stati praticamente inventati da Tolomei. Per noi la soluzione più pacifica, più sincera e più autentica è che solamente nomi con radici storiche, nomi tedeschi, ladini e ovviamente anche italiani diventano nomi ufficiali. Tutto quello che è stato inventato per assimilare il Sud Tirolo, per cambiare il Sud Tirolo nella sua identità, dovrebbe venire tolto. Un'azione che non deve essere vista come una provocazione, dicono, ma un'occasione per riflettere. Noi pensiamo che per una convivenza con un rispetto reciproco, questo non è una cosa ideale, per dirla così.